L'evoluzione cristiana di Battipaglia con il referente il dottore Fernando Zara ha organizzato per domani mattina alle ore 11 presso l'Aula Lucarelli, ex scuola di Amici, su una conferenza stampa sulle problematiche amministrative della città. Siamo stati sempre presenti in questo lungo periodo della vita cittadina nella quale abbiamo tentato disperatamente di far ragionare i vertici cittadini per il rilancio della città. Non ci sono riuscito, non ci siamo riusciti, per cui nella conferenza stampa noi analizzeremo poi il passato, questi due anni e mezzo che sono trascorsi, ma guarderemo soprattutto al futuro per la formazione di una classe dirigente e per la costituzione di una nuova area politica, quella del centro-destra, che potrà ripresentarsi, se lo capiranno tutti i rappresentanti dei partiti di centro-destra, alle prossime elezioni amministrative, passando per le forche caudine del Parlamento europeo, del Consiglio e del regionale, se dovesse questa amministrazione durare fino al 2021. Quindi impegni concreti per far sentire la voce dei cittadini? Analisi di quello che è accaduto, incarnazione o incarnare nel periodo di avvento le grandi delusioni delle aspettative mancate e quindi tentare di essere punto di riferimento non soltanto individuale, ripeto, ma di un'area politica che deve ragionare per il futuro e dare immediatamente soluzioni concrete. Nessuna aspettativa di natura, di ambizioni personali, ma di un grande affetto, un grande amore per questa terra che in questi due anni e mezzo è stata devastata e abbandonata.